Per l'esercitazione di oggi vi ho caricato due file, in realtà due script SQL vi chiederei di scaricare il primo che è l'input file 2 e di caricarlo col comando source perché quello che faremo è andare a operare una base di dati di cui ho già preparato i dati in particolare la base di dati è questa qui che dovrebbe ricordarvi qualcosa perché abbiamo fatto, avevamo una base di dati simile quando abbiamo fatto l'esercitazione su algebra relazionale in particolare questa base di dati è composta da tre tabelle, tre relazioni che sono fornitori, pezzi e catalogo fornitori a un FID intero un Fnome stringa e un indirizzo anch'esso una stringa pezzi a un PID intero che è la chiave un Pnome che è una stringa, un colore che è una stringa catalogo è un'associativa, una tabella associativa che mette in collegamento l'FID e il PID col prezzo che è applicato col costo che è applicato la chiave è una chiave composta da due campi che sono FID e PID intanto caricate il file e poi andiamo sugli esercizi ora che avete caricato il file possiamo procedere a fare l'esercitazione vi chiederei di parlare il meno possibile lo so che magari uno scambia una chiacchiera per sapere come ha fatto uno o come ha fatto l'altro però poi se c'è troppo brusio nelle registrazioni viene male il video su YouTube dobbiamo pensare anche a questo insomma allora iniziamo dal primo esercizio è trovare il Pnome dei pezzi per cui esiste un qualche fornitore allora questa qua è una query molto semplice perché è molto semplice perché SQL l'abilità principale di SQL è quella di trovare esempi e questa è la classica query che vi chiede degli esempi cioè trovare il Pnome dei pezzi per cui esiste un qualche fornitore quindi sarà una semplice select provateci per due minuti e poi vediamo la soluzione l'esercizio questo qua è molto facile eppure è anche un esercizio molto facile ci stanno diversi modi per farlo intanto andiamo a vedere qual è il modo più semplice il modo più semplice è semplicemente fare una una semplice select non annidata per quale motivo? la query mi chiede trovare il Pnome dei pezzi per cui esiste un qualche fornitore quando è che esiste un qualche fornitore? esiste un qualche fornitore quando c'è una riga dentro catalogo che ha il PID di un prodotto quindi se volessimo soltanto gli ID dei prodotti per il quale esiste un qualche fornitore faremo una select distinct PID from catalogo e basta in questo caso a noi però interessa il nome il nome non è un'informazione che sta dentro catalogo quindi necessitiamo di fare un join con la tabella pezzi per estrarre il nome questo join ovviamente viene fatto confrontando il campo PID di pezzi con il campo PID di catalogo in più di cosa ci abbiamo bisogno? ci abbiamo bisogno della distinct perché ci abbiamo bisogno della distinct? perché abbiamo bisogno della distinct? qualcuno vuole provare a rispondere? esatto che dentro catalogo la risposta è facile dentro catalogo uno stesso prodotto ci può stare più volte perché è fornito potenzialmente è fornito da più fornitori noi abbiamo necessità di avere il prodotto una sola volta quindi facciamo una distinct su pinome considerate che questo genere di cose tipo trovare il pinome dei pezzi in realtà si tratta di query di esercizi tra virgolette pericolosi perché sono pericolosi? perché il nome non è univoco all'interno della tabella pezzi quindi che vuol dire? questo vuole anche dire che questa query ma non è un problema della soluzione più un problema della richiesta cosa rischia di fare? rischia di fare che se avete più prodotti con PID differenti che hanno lo stesso nome ve li trovate nel risultato finale una sola volta qual era il modo più difficile di fare questa query? in realtà il modo più difficile di fare questa query era quello che veniva dalla lettura della query stessa cioè leggendo la query trovare il pinome dei pezzi per cui esiste un qualche fornitore uno poteva essere tentato doveva dire uso l'exist correttissimo ci mettete più tempo a scriverla ma funziona uguale quindi come funziona? select pinome from pezzi where exists diamo un alias a stata bella chiamiamola P scusate where exist select star non ce ne frega niente from catalogo where catalogo C where C.pid è uguale a P.pid questa query fa la stessa cosa di quella là ed è praticamente la traduzione in SQL proprio della richiesta in italiano fatta con l'exist cose da notare in questa soluzione da notare in questa soluzione primo punto non avete bisogno di una distinct non avete bisogno di una distinct perché l'iterazione esterna la state facendo su pezzi dove un pezzo c'è una volta sola seconda cosa è che è una cosa che in realtà per l'exist e per la not exist vale sempre non è importante quello che mettete nei campi dentro l'exist io qui ho messo un select star ma perché in realtà il dbms nemmeno li calcola i campi là dentro perché l'exist e il not exist verifica soltanto che ci sia qualcosa dentro quindi il fatto che ci mettete select star o un campo specifico non fa differenza soluzione alternativa ancora invece della not exist dell'exist utilizziamo la in quindi facciamo where p punto pid in select questa volta il campo è importante c punto pid from catalogo c sono tre quidi che calcolano esattamente la stessa cosa diciamo quella che si propone nelle slide è la quidi che viene più facile però da un certo punto di vista è pure meno leggibile questo vi dimostra che le quidi anche le più semplici perché questa qua è una quidi semplicissima ci possono avere diverse soluzioni non c'è una soluzione unica quindi anche per questo è importante che vi esercitiate con un dbms vero perché vedete che più soluzioni differenti possono portare allo stesso risultato esercizio 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 2 ah poi vi consiglio ovviamente queste quidi sono identiche a quelle che avevamo visto con l'algebra razionale quindi poi vi consiglio per secondo me abbastanza didattico che andate a confrontare la soluzione scritta in sql con la soluzione in algebra razionale degli stessi esercizi trovare gli effenome dei fornitori che forniscono ogni pezzo provateci un po' poi vediamo la soluzione ah ricordate che in questi casi forniscono ogni pezzo ricordate quello che vi ho detto e se quelle trova degli esempi quindi se avete delle proprietà assolute tutte nessuno dovete fare qualcosa di annidato nella maggior parte dei casi ok guardiamo la soluzione assieme poi mi dite se ci avete avuto qualche altra idea e cerchiamo di discutere se l'idea è buona o no come avete capito ci sono più soluzioni corrette quindi se vi è venuto in mente qualcosa di diverso ditemelo così almeno se è corretta vediamo un'altra soluzione se è sbagliata vi togliamo qualche dubbio allora una soluzione con l'except questa è molto simile a come l'avete fatta in algebra razionale cioè come vi dicevo ricordatevi sempre se quelle trova degli esempi quando ci stanno delle proprietà assolute tutti o nessuno bisogna inventarsi qualche cosa bisogna rigirare la query come possiamo dire in un'altra maniera in italiano trovare gli effenome dei fornitori che forniscono ogni pezzo si potrebbe dire trovare gli effenome dei fornitori per i quali non esiste nessun pezzo che non forniscono è la stessa cosa è una doppia negazione quindi come è fatta la query selezioniamo dai fornitori il nome dei fornitori in realtà la distinct in questo caso me la eviterei pure quello che fa la distinct è che se come nel caso precedente se avete più fornitori che hanno lo stesso nome ve li schiaccia where not exist quindi per i quali non esiste abbiamo detto prima nessun pezzo che non forniscono nessun pezzo che non forniscono come lo facciamo lo facciamo con selezioniamo tutti i pezzi e sottraiamo i pezzi che invece forniscono se questo insieme è vuoto vuol dire che il fornitore fornisce ogni pezzo per uno specifico fornitore ora perché questa soluzione non mi piace non mi piace cioè funziona ovviamente è una soluzione corretta se la fate all'esame va benissimo non mi piace perché usa l'except dite voi che c'è contro l'except il problema dell'except è che molti di BMS non la supportano perché non la supportano perché l'except come avete visto a lezione con la professoressa lo potete fare lo potete sostituire con un note in sempre e comunque sempre e comunque potete sostituire l'except con note in e per semplificarsi l'implementazione molti di BMS non supportano except non so nemmeno se la supporta MySQL tra l'altro quindi vediamo una soluzione alternativa quale può essere una soluzione alternativa abbiamo vi ho appena detto l'avete visto con la professoressa che l'except lo potete sostituire con un note in quindi come la facciamo questa cosa vi faccio soltanto la parte interna al note exist quindi il preambolo resta com'è note exist apriamo tonda select asterisco in questi casi ve l'ho detto quando usate note exist non importa che mettete all'interno dei nomi dei campi della selezione tanto non vi cambia niente from pezzi p where p.pid not in apro un'altra qui riannidata select p.pid from catalogo c where c.fid è uguale ad f.f.fid quindi questa qua è la soluzione dell'acquiri fatta non utilizzando la except ed è esattamente in realtà la richiesta modificata che vi avevo detto prima cioè trovare gli f nomi dei fornitori per i quali non esiste nessun pezzo che non hanno in catalogo qui ovviamente ricordatevi che la invece a differenza dell'exist per la in e per la not in i campi che selezionate contano quindi in questo caso là c'ho p.pid not in select p.pid devono essere concordanti altrimenti non funziona soluzione fantasiosa la vostra collega mi ha detto la facciamo con gli operatori aggregati ok proviamo a farla con gli operatori aggregati e vediamo come possiamo farla avete copiato scusate l'ho cancellato ah giusto è vero abbiamo le testimonianze se riuscite a leggere la mia scrittura ovviamente soluzione fantasiosa con l'operatore aggregato qual è un altro modo in cui posso risolvere questa query io posso contare quanti pezzi ci sono quanti pezzi esistono posso contare quanti pezzi sono forniti da ognuno dei fornitori nel catalogo e poi posso fare un confronto ora questa cosa la posso fare anche con una qui di sola ma la cosa più semplice da fare è fare una vista come quella che avete visto con la professoressa quindi facciamo creiamo una vista create view prodotti per f facciamola breve as select f id count asterisco as cont non sono molto fantasioso con i nomi from catalogo group by group by che cosa? per cosa raggruppiamo? per feed non potremmo raggruppare per nient'altro perché non possiamo raggruppare per nient'altro? anche sintatticamente non solo semanticamente ricordate questo è fondamentale se usate una group by i campi non aggregati che stanno qua dentro devono essere gli stessi dei campi non aggregati che stanno nella select non ci può essere non può essere diversamente magari a casa cercate di ragionare sul perché non può essere diversamente ma è ovvio perché altrimenti qualunque altro campo qua verrebbe replicato quindi qua abbiamo una vista prodotti per f che contiene per ognuno dei fornitori contiene il conteggio di quanti prodotti ci hanno a catalogo memorizzati in una variabile variabile in un campo cont a questo punto come risolvo la mia query la mia query la risolvo facendo select fid che chiedeva gli f nome o gli fd gli f nome se dovete fare gli f nome vi serve un join con la tabella dei fornitori ovviamente select fid from prodotti per f prodotti per f where cont è uguale a protonda select count star from pezzi stesso risultato di prima quindi che abbiamo fatto abbiamo fatto una vista in cui ci abbiamo per ogni fornitore il conteggio dei prodotti che ci hanno che ci hanno a catalogo che ci ha a catalogo e poi facciamo una select in cui confrontiamo questo cont con il conteggio totale dei pezzi quindi terza soluzione anche per questa query per per esperienza sugli esami ci stanno un sacco di studenti che si innamorano un po' degli operatori aggregati e cercano alla fine di risolvere tutto quanto con gli operatori aggregati e con le group by cercate di farvela passare come consiglio personale ma non perché magari la soluzione ci sta però magari infilate in dei tunnel che durano mezz'ora tipo per prima di tirarla fuori quindi cercate di utilizzare sequelle nella sua interezza viene molto più facile risolvere le query ok vediamo esercizio 3 qui ci stanno un po' di commenti ma sono tutte cose che ho già detto a voce trovare gli effenome dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi questa non vi do nemmeno il tempo di farla perché è uguale a quella di prima la ricordate pure dall'esercitazione sull'algebra razionale l'unica differenza qual è? è che nella prima parte dell'except invece di prendere l'insieme intero dei pezzi prendo soltanto l'insieme dei pezzi di colore rosso all'insieme dei pezzi di colore rosso ci sottraggo i pezzi che sono venduti dagli specifici fornitori qui tra l'altro volendo si perdono anche un sacco di energie perché si fa una select star a cui poi si devono sottrare tutti quanti i campi qua potevate farla molto più semplicemente mettendo sopra select pid e sotto soltanto select p1 .pid avete provato a farle girare e seguire sul dbms forse non ci avete avuto il tempo l'except ve l'ha preso mysequel come immaginate considerate che non è una mancanza di mysequel sono pochissimi dbms che supportano tutti gli operatori insiemistici qual è secondo voi l'unico operatore insiemistico di cui non si può fare a meno e che hanno tutti per forza l'unione l'unione non potete farla diversamente perché l'unione in qualche maniera crea e non sottrae quindi l'unione ce l'hanno tutti quanti dbms mentre gli altri operatori insiemistici dsql probabilmente non li trovate su dbms questo è interessante trovare i pezzi forniti dalla acme e da nessun'altra prendetevi qualche minuto per pensare alla soluzione e poi guardiamo assieme la soluzione proposta allora qua avete una query che ha due aspetti trovare i pezzi forniti dall'acme e da nessun'altra un'altra cosa che dovete imparare è a capire quando il problema va diviso in più parti in questo caso è trovare i pezzi forniti dall'acme e da nessun'altra siccome avete gli operatori logici il suggerimento è preoccuparsi prima di trovare i pezzi forniti dall'acme e poi di preoccuparsi che non li fornisca nessun'altra quindi vediamo come la soluzione proposta infatti qui fa esattamente in questa maniera che cosa fa prima la prima cosa che fa è fare un join tra pezzi catalogo e fornitore imponendo nel join che il fornitore abbia nome acme se vi fermate a questo punto dell'acquiri quello che voi ci avete sono i prodotti che sono forniti dall'acme quindi sono la la prima parte della la prima parte della della richiesta insomma a questa cosa però dovete aggiungerci pure il fatto che deve essere fornito da nessun'altra per fare questa cosa che facciamo come possiamo riscrivere fornito da nessun altro possiamo riscriverlo non esiste un fornitore diverso da acme che lo fornisce quindi and aggiungo una condizione not exist select star ricordate sempre exist e not exist non importa che ci mettete dentro i campi selezionati dentro il catalogo nessuna riga in cui il product id è quello della della query esterna e il fornitore è diverso da acme quindi avete preso la query avete preso la richiesta e l'avete divisa in due parti ovviamente potevate anche qua potevate sbizzarrirvi sulle sulle soluzioni potevate anche fare che ragazzi per favore il brusio perché altrimenti registrazione potevate anche fare diversamente invece di fare un join nella prima parte potevate fare un potevate utilizzare l'in se vi sembrava più più elegante o più leggibile però appunto eleganza è la parola giusta queste qua sono soltanto questioni di eleganza perché dal punto di vista del dbms poi il dbms prende la query la modifica con un oggetto che si chiama query optimizer e cerca di calcolare la query nella maniera più veloce possibile dal suo punto di vista a seconda degli indici di Chavo e gli indici ancora non li avete fatti li farete più in là nel corso quindi forse è un discorso prematuro quindi altra lezione importante ci avete una query complessa separatela per pezzi e risolvetela per pezzi se qua voi avete provato a risolvere in un monoblocco senza query annidate il fatto che il pezzo sia fornito da ACMA e da nessun altro avete già fallito dovete dividere divide e timpera principio base dell'informatica esercizio 5 trovare i feed dei fornitori che ricaricano su alcuni pezzi più del costo medio di quel pezzo questa qua potete farla sia con una query annidata sia potete farvi una vista in cui vi calcolate i prezzi medi e poi fate i confronti insomma ci avete un po' di libertà prendetevi qualche minuto e provate a farla questa in realtà la query è abbastanza facile una volta capito capiti di operatori aggregati quello che si fa qui è che si seleziona dal catalogo tutti i fornitori che hanno un costo ovviamente il costo sarà associato a uno specifico prodotto che è maggiore della media dei costi applicati applicati in quel catalogo su quel prodotto quindi in realtà un'operazione che su cioè un'operazione che tipo in algebra razionale non sarebbe possibile perché non ci sta il concetto di media qua vi viene semplicissimo perché ci avete è come se stesse scorrendo tutte le righe del catalogo per ogni riga ci avete ovviamente un fornitore un prodotto e un costo verificate che per quello specifico prodotto il costo sia maggiore della media su quel prodotto nell'intero catalogo ovviamente il distinct perché un fornitore ci potrà avere più prodotti per i quali applica un prezzo che è maggiore della media del catalogo questa c'è poco da dire perché si poteva fare l'unica variante che mi viene in mente potrebbe essere con una vista in cui per ogni prodotto vi calcolate prima nella vista la media dei costi sul catalogo e poi utilizzate questa relazione in join invece di fare la query annidata però per ciascun pezzo trovare gli effenome dei fornitori che ricaricano di più su quel prezzo su quel pezzo questa è proprio archetipo del 50% delle query che trovate all'esame all'esame ci sta sempre solitamente una query in cui vi si chiede di trovare l'elemento a cui corrisponde un massimo o un minimo o qualche altra operazione però si risolvono più o meno tutte in questa maniera qua provate un pochettino e poi guardiamo la soluzione allora prima di guardare la soluzione ho visto che in molti provate a mettere delle condizioni complesse nella having cercate di evitarle il più possibile la having dovrebbe essere utilizzata soltanto per metterci condizioni sugli operatori aggregati che quindi sono il risultato della group buy se cominciate a mischiare condizioni sugli operatori aggregati con condizioni sui valori che invece solitamente dovrebbero stare nella where ci sta qualcosa che non va poi magari vi esce la query che funziona però mettere questo tipo di condizioni nella having è pericoloso ci può avere un sacco di effetti collaterali che non riuscite a calcolare quindi nella having mettete condizioni soltanto che sono relative agli operatori aggregati per ciascun pezzo trovare gli effenomi dei fornitori che ricaricano di più su quel pezzo questa cosa si può fare in due maniere differenti o si fa una vista in cui si calica il massimo per un determinato pezzo e si fa il confronto per chi applica quel valore massimo oppure si utilizza una not exist cioè si verifica che non esista nessun altro che su quel pezzo ricarica di più vediamo che soluzione ci sta qua sopra no qua ci sta col massimo infatti quindi si va a calcolare si vanno a calcolare i prodotti a catalogo e i nomi dei fornitori e si verifica che il costo applicato sia il costo massimo per quel prodotto quindi questa qua è la stessa diciamo è la stessa soluzione praticamente dell'esercizio di prima portata col massimo una soluzione alternativa è che in realtà è più precisa e adesso vi spiego pure perché è quella che come dicevo prima di utilizzare il not exist cioè verificare che non esista nessuno che applichi un prezzo maggiore perché è più precisa perché all'esame va bene uguale però per essere precisi sui numeri a virgola mobile sui numeri con la virgola in generale specialmente quelli a virgola mobile i calcolatori non sono sempre precisi a calcolare l'uguaglianza perché il valore che vedete solitamente è arrotondato e in realtà in memoria è memorizzato un valore particolare quindi a volte questo tipo di soluzione con l'uguale fatta su dei numeri che sono con con la virgola potrebbe non funzionare detto questo all'esame va bene uguale quindi fate quello che preferite per questa volta ci fermiamo qua poi prossima volta facciamo gli altri esercizi grazie a tutti grazie a tutti